durante la giornata di oggi ci sono state una serie di incontri abbastanza insoliti o meglio dei personaggi che non c'entrano apparentemente nulla l'uno con l'altro sono messi tutti quanti in un solo luogo ovvero la triennale di Milano tutto questo perché per un episodio di Muschi Selvaggio che è appunto il podcast di Fayez e Luis abbiamo appunto visto Gallagher insieme a loro ma anche Shaglia Rodriguez o Tommaso Zorzi e quindi nulla vi metto le stories di questa situazione molto interessante fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio ciao vai Fede com'è che ci si saluta? ci si saluta la milanese capis? non ci si toccava un più? come siete? ah com'è che ci si saluta? voi? come ci si saluta? come va? Diana che si è appena bevuta 8 bicchieri di vino ma ho bevuto la tisana 8 bicchieri di vino ma che succede che sei ubriaco? ubriaco Diana e ti ho già detto dato che già non hai i freni libitori non ti bevi tutta sta roba che adesso non so come ne tenemo che str**o non tocca a nessun oggetto ma il mio bro vietnamita lo fa ducchi guarda come è facile ducchi come pupazzetti aspetta oh ducchi si vede la roba di qui? no grazie mille delle storie proprio come un riccio però però no in realtà si sta facendo una foto no un video ah ok rispetto a quello che potresti avere beh è un po' di scopo mi è scoperto ma per questa volta non è scoperto ma per questa volta non è scoperto però la regina chi sa ma no voglio proprio sapere come vai a parare no ma so dimmelo tu ma mi la travo ce la stiamo non è non è quello che io per fidare le persone vanno in marocco ingeriscono degli ovuli di fumo arrivano in spagna di caracar però è un blu è un vero cazzo di blu no le mutande certo me le hanno lasciate io ne avevo tutte tipo lutto per i uberi dai colore per fare cose per fare cose per fare cose